Ciao a tutti, questo sarà un video un po' particolare, non ho mai fatto video del genere nel mio canale ci sono ASMR per quanto riguarda la natura, ma di questo genere non ne ho fatti mai e non credo ne farò altri, però sono stata taccata nella simpaticissima e bravissima Thea Sole anche ASMR, vi metto il link al suo canale nel box info, mi aveva detto di poter fare questo video anche in versione normale, ma siccome lei lo ha fatto in ASMR, io voglio tributarle questo video, quindi per chi non segue questo genere di video, io lo ringrazio naturalmente, ricordando che comunque è un video tributo, Thea Sole è una persona molto carina, molto simpatica, sensibile e gentile, io vi invito ad andare al suo canale, lei fa sia ASMR che spacchettamento normale, vlog normale, quindi è da seguire sia per chi ama la ASMR sia per chi non ama questo genere di video, allora, i video ASMR in genere si ascoltano prima di andare a letto per facilitare il relax e per questo vi consiglio di usare delle cuffiette per poter ascoltare meglio il tag, il tag si intitola cosa penso dell'estate, la prima sono 18 domande, però la diciottesima è tag a qualcuno, io taggo Big Whispering ASMR, la mia amica antonella, allora la prima domanda, ti piace la stagione estiva? Spiega il perché della tua risposta, un tempo la stagione estiva mi piaceva moltissimo, perché era un senso di libertà, di poter andare al mare, io adoro nuotare, ma adesso con il caldo opprimente è diventata per me un'angoscia, non mi piace più questa stagione, poi ci sono le zanzare, seconda domanda, che mese preferisci tra giugno, luglio e agosto? Forse preferisco agosto perché passato il 15 è finita l'estate, anche se qui l'estate dura fino a settembre e ottobre, spesso a fine ottobre siamo ancora a maniche corte. Terza domanda, mare o montagna? Mare, la montagna mi piace molto, ma il mare è qualcosa di particolare, quando io sono andata in vacanza, in posti dove non si trova il mare, ne ho sentito moltissimo la mancanza. Quattro, guarda domanda, qual è il momento della giornata che preferisci? Sempre nell'ambito dell'estate io preferisco la prima mattina, diciamo l'alba, quando c'è ancora il fresco della notte, ancora il caldo non è diventato forte e c'è quella leggera prezzolina fresca. Soffre il caldo? Sì, moltissimo. Qual è il tuo costume preferito? Mostracelo producendo un Fabric Sound. Allora io ho un costume preferito, ma al momento non l'avevo disponibile e quindi vi farò vedere il mio copricostume. Il Fabric Sound lo faccio ugualmente ed è una specie di grande fulare con le palme, c'è un tramonto con una parchetta e delle palme, è molto bello, è molto leggero. Settima domanda, qual è il tuo profumo estivo preferito? Mostracelo e fai dei suoni con la boccetta. Allora il mio profumo preferito in assoluto è questo dell'erbolario, fresca essenza. L'ho mostrato, fa un suono particolare. l'ho mostrato in un mio video dove parlavo proprio delle sue caratteristiche. È un profumo molto delicato e sembra molto forte all'inizio ma poi ti lascia un senso di freschezza. dà un odore di campagna, di citronella, di aria pulita. piatto estivo preferito, se servisse direi gelati, comunque la pasta fredda, l'inseratore di riso, vestito o pantaloncini. mi piacciono molto in estate, mi piacciono molto in estate, i vestitini freschi. cocktail preferito? Io non bevo cocktail, ma se si può dire che siamo alla base di un cocktail, mi piace il San Peter. discoteca o passeggiata notturna sulla spiaggia? passeggiata notturna sulla spiaggia, non c'è niente di più romantico, specialmente in estate. descrivi la sensazione che provi dopo una giornata di mare. qui rispondo come ha risposto la mia carissima amica Betta, del canale ASMR, la gemella Betta. che ci sono due modi di vedere l'estate, il topo sole e quando sei ragazzina è una felicità, una stanchezza bella, pulita e allegra. quando poi devi rincorrere un bambino per tutta la spiaggia, che ti scappa, provi altre sensazioni, soprattutto di stanchezza. descrivi la tua giornata estiva ideale, allora alzarsi quando si vuole e poi andare al mare, farsi la doccia, andare, che so come è, mettersi in un balconcino e con la veduta sul mare, questo per me sarebbe l'ideale. cosa ti viene in mente se pensi a ferragosto, che sta finendo l'estate? hai mai guardato i fuochi d'artificio seduta sulla spiaggia? una volta, quando ero piccolina, l'ho visti, ma proprio una volta soltanto, ricordi molto vaghi, ma di felicità comunque. estate uguale magia, in un certo senso sì, perché è la magia dell'estate, delle belle giornate, delle vacanze, delle amicizie, degli amori che nascono e muoiono nella stessa stagione, in questo senso sì. quali sono gli elementi della stagione estiva che ti fanno provare ASMR? questa è l'ultima domanda, quello del mare il suono per eccellenza, il suono del mare e poi quello delle conchiglie io ho questa scatola dove è di cartone produce anche un bel suono anche nel modo di togliere il coperchio il suono delle conchiglie purtroppo è molto forte ho timore di dare un suono troppo forte che sono delle conchiglie che si infrangono che si infrangono sulle onde del mare e poi il suono e poi il suono della sabbia io purtroppo non ho con me della sabbia ma ho pensato che questo possa se non all'udito fare ASMR visivo la sabbia che passa tra le dita la lucentezza della sabbia la lucentezza della sabbia io spero io spero che nessuno di chi fa ASMR si sia pronto le là diciamo per questo video perchè per me non è un video scherno ecco è soltanto come dicevo all'inizio un tributo è un tributo ad Alessandra Dea Sole anche ASMR che mi ha voluto permettere di fare questo tag io la ringrazio e saluto tutti voi con un abbraccio alla prossima spero comunque di avervi fatto un po' di compagnia un po' diversa alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao